Ciao a tutti, oggi prepareremo lo sformato di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Ingredienti sono melanzane tagliate a fettine sottili, zucchine tagliate a fettine sottili, peperoni tagliate a fettine, patate tagliate a fettine, scamorza affumicata, pan grattato, parmigiano grattugiato, olio, sale, pepe e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello con le patate tagliate a fettine, più o meno questo spessore, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma e il vassoio del varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Le verdure sono pronte. Lasciamole intiepidire. Anche le patate, lasciamole intiepidire. Abbiamo oliato uno stampo da plum cake e l'abbiamo spolverizzato con del pan grattato. Adesso formeremo gli strati con le verdure. Iniziamo con le melenziane. Adesso mettere un po' di sale, pepe, olio. La scamorza. Il pan grattato. Il parmigiano. E proseguire così con tutte le altre verdure, terminando con le patate. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Lo sformato è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Sformato di verdure. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aggiungire. Grazie a tutti. Aggiungire. Grazie a tutti.